I dati reali e definitivi sulle presenze di turisti nelle strutture alberghiere abruzzesi si conosceranno solo dopo la fine dell'estate. In attesa si può comunque parlare di tendenza e anche di mini bilancio dopo i primi mesi estivi. La voce di Federalberghe Abruzzo con la vicepresidente Daniela Renisi. Rispetto ad un 2023 che è stato sicuramente ottimo, quest'anno abbiamo risentito molto, soprattutto nel mese di luglio. Abbiamo avuto delle perdite del 20-30%. Il mese di agosto è il mese di eccellenza degli italiani e sappiamo che la nostra regione comunque ha la maggior parte delle provenienze appunto è proprio quella nazionale. Quindi già vediamo dai dati di questa settimana, quindi dal 12 al 18, che le presenze sono ottime. Altra specificità del turismo estivo 2024 è data dal cambiamento di paradigma di vita, ancora a Renisi. Quest'anno si è preferito segmentare le ferie, quindi anche chi aveva delle disponibilità di poter viaggiare ha preferito cambiare anche meta in base a altri fattori, che possono essere il clima. Abbiamo visto anche purtroppo l'elemento negativo della mucillagine, che comunque di fatto non ha recato nessun danno, ma a livello di immagino, comunque nel momento in cui bisogna prenotare una vacanza, si vuole essere certi di godere del massimo. Massimo richiesto anche in termini di strutture e servizi. Qui a che punto siamo? Allora, abbiamo una qualità di servizi abbastanza dedicata, nel senso che siamo comunque una meta preferita dalle tante famiglie, anche da una clientela un po' più agè. Quindi questo significa che c'è un'attenzione e anche un sistema che sostiene e facilita poi questa utenza. Avete registrato meno presenze di turisti stranieri? Sì, però come al solito delle modalità che cambiano anche in base ai periodi, nel senso che quest'anno bisogna comunque considerare che sono tornati molto forti dei competitor, quali l'Egitto, che a causa anche dei conflitti che ci sono in questo momento portano ad avere delle tariffe davvero vantaggiose e quindi a, come dire, attirare anche nazionalità di turisti che preferiscono andare magari a 300 euro a settimana con volo incluso. Infine, in tempi di ristrettezze economiche, la minore organizzazione di eventi sul territorio da parte delle amministrazioni può influire sulle presenze? Gli eventi sono un elemento importante ma non fondamentale. Sicuramente le tasche degli italiani in questo momento non sono, come dire, pienissime, quindi automaticamente si seleziona e si sta più attenti. E poi, come dicevo, è cambiato anche un po' il modo di vivere le vacanze. Molte volte si sta più attenti a scegliere un tipo di vacanza che sia esperenziale ma che fondamentalmente brucia l'esperienza, perché basta fare il selfie magari in un posto molto ambito o ricercato e poi appunto non avere quel seguito che invece noi ricerchiamo con un turismo di qualità e quindi che allunghi anche i giorni di permanenza nella città.